Uno schianto violentissimo contro il muro di una casa nel cuore della notte è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. Dorian Pianca, originario dell'Albania, ma nato a Cantù e residente in Versilia, non ha avuto scampo dopo il volo dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un altro ragazzo di 18 anni, non ancora compiuti, finito in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in via del Padule a Pietrasanta, in zona Pollino, non lontano dall'inceneritore. I due, in sella al motorino, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del mezzo a due ruote e sono andati a sbattere violentemente contro il muro dell'abitazione, picchiando contro le inferiate della finestra. È stato un automobilista di passaggio a notare i due corpi a terra e a dare l'allarme. Sul posto l'automedica del 118, le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della misericordia di Capezzano Pianore. Per i rilievi il commissariato di polizia di Forte dei Marmi e la stradale di Viareggio. Il 21enne è morto una volta arrivato al Versilia. L'amico 18enne, residente a Pietrasanta, è in prognosi riservata, ha riportato varie fratture alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Ancora da capire la dinamica dell'incidente, avvenuto in un rettilineo in piena campagna. Tra l'ipotesi una frenata brusca o l'asfalto scivoloso per la pioggia della notte, saranno le indagini a chiarirlo.